Iniziata nel 1513, durante il confino a San Casciano, interrotta per dar luogo alla compilazione del Principe, ripresa in seguito specie negli anni 1516-1518, portata a termine verso il 1521, è questa l'opera di più vasta meditazione del Machiavelli sui problemi dell'origine, sviluppo, durata e decadimento degli stati. Inutile aspettarsi dal Machiavelli una esposizione formalmente continuativa, sistematica, il termine stesso di discorsi, che sta fra il commento e la divagazione, presuppone un oggetto esterno da esaminare senza contraddirlo, un dato su cui esercitare la propria analisi, assumendolo in pieno coi suoi caratteri. Anche qui, seppur meno che nel Principe, l'argomentazione trova dunque la sua forza nella stretta aderenza agli elementi propri di ciò su cui indaga, assunto nel significato di esempio. Il mordente che fa belle e appassionanti le migliori pagine del Machiavelli nasce dallo stesso difetto speculativo che è il limite di lui. La tendenza, cioè, di ridurre la propria discussione nell'ambito di certi esempi divenuti emblematici e di lasciarsi sfuggire così le effettive possibilità di svolgimento delle varie situazioni storiche. Egli si rifugia nella teoria per superare le difficoltà di definitiva interpretazione che la sua esperienza di uomo politico e di studioso include, ma avvenendo incontro alla pratica, la teoria estende i suoi riflessi sul corpo vivo di questa esperienza, chiudendola nella trama delle sue esemplificazioni culturali, risolvendo quindi spesso, in un procedimento univoco, una ricerca di verità, magari in se stesse molteplici e storicamente contraddittorie. L'accusa mossagli dal Guicciardini di allegare i Romani a ogni parola non riguarda tanto un dubbio sul fondamento scientifico di poter imitare quegli antichi ordini e provvedimenti, quanto il danno contingente che deriva dal perdersi dietro un mito, lasciandoci sfuggire le esigenze impellenti della politica contemporanea. Chi volesse infatti che un asino facesse il corso di un cavallo, non saprebbe a rigore neppure impiegare l'asino in ciò in cui potrebbe essere davvero utile. L'opera è divisa in tre parti. Nella prima si studiano gli ordinamenti interni di Roma e le cause che le permisero di passare dalla monarchia alla libertà repubblicana e di assurgere il ruolo di dominatrice del mondo antico. Nella seconda si esamina la sua politica estera e sostegno di quella, ossia l'organizzazione militare romana. Nella terza si cerca di vedere se e come uno stato possa essere salvato dalla decadenza fatale che, come accade in tutte le cose umane, la minaccia. Il Machiavelli espone subito il suo intento. Vedendo le virtuosissime operazioni che le storie ci mostrano, che sono state operate da regni e da repubbliche, essere più presto ammirate che imitate, anzi intanto da ciascuno in ogni parte fuggite, che di quella virtù non ci è rimasto nessun segno, non posso fare che insieme non me ne meravigli e dolga. Volendo pertanto trarre gli uomini di questo errore, ho giudicato necessario scrivere sopra i libri di Tito Livio quello che io, secondo le antiche e moderne cose, giudicherò essere necessario per maggiore intelligenza di essi. in modo che i lettori possono trarne quella utilità per la quale si debba ricercare la cognizione della storia. Orbene, origine stessa di Roma fu favorevole al corso futuro della sua grandezza, sia che si prenda per suo primo progenitore Enea o Romolo, in qualunque modo la si vedrà avere principio libero, senza dipendere da alcuno. A differenza di quel che accadde a Firenze che, edificata da soldati di Silla o a caso dagli abitatori dei monti di Fiesole, i quali si ridussero ad abitare nel piano sopra Arno, si edificò sotto l'imperio romano. E non poté quindi formarsi in libertà. Di più, esaminata sulla scorta di Aristotele e Polibio, la natura e la sorte degli stati, per cui il principato diventa tirannico, gli ottimati con facilità diventano stato di pochi, il popolare senza difficoltà in licenzioso si converte. E' da dire che Roma, come Sparta, appartiene a un quarto tipo, diciamo misto, che, fuggendo ciascuno di questi per sé stesso, partecipa invece di tutti, ed è assai più stabile come quello dove l'uno guarda l'altro, sendo in una medesima città il principato, gli ottimati e il governo popolare. Soltanto che a Sparta questa costituzione fu opera della saggezza di Licurgo. A Roma, invece, quello che non aveva fatto un ordinatore lo fece il caso. Infatti, i re che fecero molte buone leggi conformi al vivere libero, anche se il loro intento non era certo di dar luogo alla Repubblica, furono sostituiti nel loro potere dai consoli che si appiancarono al Senato. Infine contro la nobiltà insolente si levò il popolo, tal che, per non perdere il tutto, fu costretta a concedere al popolo la sua parte, con la creazione dei tribuni, ottenendo però che con piena autorità consoli e Senato potessero tenere in quella Repubblica il grado loro. Cosicché, diversamente da altrove, quei tumulti che molti inconsideratamente dannano, non partorirono in Roma alcuno esilio o violenza in disfavore del comune bene, ma leggi e ordini in beneficio della pubblica libertà. Né in Roma, a differenza che a Sparta e a Venezia, intenta com'era ad allargare il proprio dominio, si poteva negare alla plebe di avere parte al governo della cosa pubblica. Altro rimedio che savò Roma da nefaste conseguenze, fu la facoltà concessa ai tribuni di accusare i cittadini al popolo o a qualunque magistrato o consiglio, quando che peccassero in alcuna cosa contro allo Stato libero. È così che si dà via a sfogare a quegli umori che crescono nelle cittadi, in qualunque modo, contro a qualunque cittadino. Mentre se questi umori non hanno onde sfogarsi ordinariamente, ricorrono ai modi straordinari che fanno rovinare in tutto una repubblica. Che magari si chiede vendetta a un principe o a un esercito straniero, come era accaduto a Firenze nel 1512. Inoltre, in tal modo, si evita che al posto dell'accusa si diffonda la calugna, perché se l'accusatore veritiero va premiato, il calugnatore va punito. Ma nonostante queste fondamentali ammissioni sull'importanza di una piena partecipazione del popolo al governo dello Stato, il Machiavelli sostiene, per regola generale, che non mai o di rado occorre che alcuna repubblica o regno sia da principio ordinata bene, se non è ordinata da uno. Con il che, egli torna all'idea che il fondamento dello Stato è l'eccezionale virtù di pochi individui, che era del resto il suggerimento dei suoi tempi in cui emergeva e dominava chi si era fatto di privato principe, e che risponde all'idea dello Stato come opera d'arte, messo in rilievo dal Burghardt. Il Machiavelli non sa contraddire all'insegnamento della storia romana, che per lui ha un valore intoccabile, ma non riesce nemmeno ad avere piena coscienza del modo con cui l'universalità dei cittadini possa farsi soggetto consapevole del divenire storico, legato come è alle concezioni individualistiche della sua epoca, che gli negavano di capire in che modo le antinomie e le contraddizioni fra i cittadini e le classi possano confluire e sciogliersi nel corpo unico dello Stato, che se ne fa mediatore attraverso i propri organi. Ed eccolo ripetere quanto alla religione dei Romani che, se si avesse a disputare a quale principe Roma fosse più obbligata, credo che Numa otterrebbe il primo grado, perché dove è religione facilmente si possono introdurre le armi. Qui, pure affermandosi la sincerità religiosa del popolo romano, la religione appare anch'essa opera di un uomo che ne fa il più efficace, instrumentum regni. Eccolo ancora fannarsi a ricercare nel diciottesimo capitolo in che modo nelle città corrotte si potesse mantenere uno Stato libero essendovi e non essendovi ordinarvelo. Senza vedersi che simile esame va contro una petizione di principio, poiché quando il corpo sociale è guasto e lo Stato stesso che è in disfacimento, ne si può trovare un fattore intrinseco di salvezza vera. Ben si capisce a questo punto come il Machiavelli si sia deciso a cercare nel principe la spiegazione di un problema di cui gli esatti termini gli sfuggivano e la cui soluzione, d'altra parte, gli appariva essenziale per poter provvedere allo Stato presente delle cose italiane. È anche naturale che egli, nonostante ciò che prima ha fermato sulla efficacia degli ordinamenti pubblici e della religione romana, avanzi ora il dubbio che se dopo un eccellente principe si può mantenere un principe debole, dopo uno debole non si può con un altro debole mantenere alcun regno. Ragion per cui se, dopo Numa, invece del bellicoso Tullo Stiglio, fosse succeduto un re pacifico, Roma ne avrebbe avuto un danno decisivo. Questi sono i lineamenti essenziali che il Machiavelli traccia sulla formazione e i caratteri dello Stato romano. Sarebbe troppo lungo, d'altra parte, tenere conto partitamente di tutti gli argomenti da lui toccati nelle restante pagine del primo libro dei discorsi. Limitiamoci dunque all'indicazione di ciò che completa la linea di quel ritratto. Ricordiamo così che il Machiavelli, con precisione ed acutezza di motivazione, dimostra che la dittatura fu utile a Roma perché gli ordini consueti delle repubbliche hanno un moto tardo e quindi sono i rimedi loro pericolosissimi quando egli hanno a rimediare a una cosa che non aspetti tempo. Tanto che, se non viene legittimamente predisposto un simile provvedimento straordinario, è necessario, o, servando gli ordini, rovinare, o, per non rovinare, romperli. E concludiamo questa parte della nostra esposizione sottolineando che il Machiavelli si dimostra persuaso che, essendo la moltitudine più savia e costante dei principi, se i principi sono superiori al popolo nell'ordinare leggi, formare vite civili, ordinare statuti e ordini umani, i popoli sono tanto superiori nel mantenere le cose ordinate che egli aggiungono senza dubbio alla gloria di coloro che l'ordinano. concetti che riportano un equilibrio di compito e di meriti tra chi si fa promotore di un ordinamento e il popolo, che con quell'ordinamento porta uno stato alla grandezza. Già si è detto che il secondo libro dell'opera prende in esame la condotta di Roma verso gli altri stati e ne studia gli ordini militari. Nel proemio il Machiavelli giustifica ancora il suo intento di rivolgersi all'insegnamento degli antichi tempi, cui che egli giudica il mondo sempre essere stato a un medesimo modo, ed in quello essere tanto di buono quanto di Cristo. Ma il bene e il male, di tempo in tempo, si dispongono del tutto diversamente di stato in stato, ossia di provincia in provincia, ond'eccola virtù prima collocata in Assiria, poi in Media, di poi in Persia, tanto che ne venne in Italia e a Roma. Ne egli meriterà di essere numerato fra quelli che si ingannano, lodando troppo i tempi degli antichi romani e biasimando i propri. Certo che egli non aderisce alla tesi di Plutarco, per cui la grandezza di Roma dipenderebbe dalla fortuna. Da qualcosa non credo ancora si possa sostenere, perché se non si è trovato mai Repubblica che abbia fatto i progressi che Roma, è noto che anche non si è mai trovato Repubblica che sia stata ordinata a poter acquistare come Roma, e perché ciascuno possa meglio conoscere quanto poter più la virtù che la fortuna dei Romani ad acquistare quello imperio, noi discorreremo di che qualità furono quelli popoli con i quali ebbero combattere e quanto erano ostinati a difendere la loro libertà. La libertà, infatti, è causa non solo della solidità ma anche dell'ampliamento degli stati, perché non il bene particolare ma il bene comune è quello che fa grandi le città. Orbene, vi sono tre modi circa lo ampliare, l'uno che osservarono i Toscani antichi, ossia gli Etruschi, di essere una lega di più repubbliche insieme, l'altro modo è farsi compagni, non tanto però che non ti rimanga il grado del comandare, la sedia dell'imperio e il titolo delle imprese. Il terzo modo è farsi immediati sudditi e non compagni. Roma seguì il secondo modo, associandosi alle sue successive imprese come alleati i popoli già vinti, cosicché questi suoi compagni venivano che non se ne avvedevano con le fatiche ed il sangue loro ad soggiogare se stessi. Perché coloro che erano in tal maniera debellati, avendo governatori romani ed essendo stati vinti da eserciti con il titolo romano, non riconoscevano per superiore altro che Roma, che pertanto salse a tanta eccessiva potenza. Inoltre i romani, subito che era scoperta la guerra, uscivano fuori con gli eserciti all'incontro del nemico e subito facevano la giornata, cioè ingaggiavano subito battaglia. I nemici, una volta vinti, perché non fosse loro guasto il contado, per salvare dunque la sostanza delle loro ricchezze, venivano alle condizioni e i romani gli condannavano in terreni, chiedendo per sé dei territori dove inviavano una colonia, la quale veniva ad essere guardia dei confini romani, tanto che Roma arricchiva della guerra, dove gli altri principi e repubbliche non savie né impoveriscono. Nel Roma era soggiogata dalla fallace, seppure diffusissima opinione, che il denaro sia la base della guerra, perché non ignorava non l'oro essere il nervo della guerra, ma i buoni soldati, perché l'oro non è sufficiente a trovare i buoni soldati, ma i buoni soldati sono ben sufficienti a trovare l'oro. Sono ben necessari i denari in secondo luogo, ma è una necessità che i soldati buoni per sé medesimi la vincono. La vera potenza dell'esercito romano consisteva nella disposizione e forza della loro fanteria, schierata in campo nei tre ordini degli stati, dei principi e dei triari, ognuno dei quali, senza confusione, poteva accogliere entro le proprie schiere la precedente fila, quando fosse costretta a ripiegare. E chi si ordina da potersi nella giornata rifare tre volte, ad avere tre volte inimica la fortuna a voler perdere, ed ha ad avere per riscontro una virtù che si atta tre volte a vincerlo. Eventualità assai difficili a verificarsi. Ma ormai gli eserciti sdegnano queste regole di battaglia, ne si dica che le artiglierie hanno del tutto sovvertito la bontà degli ordini antichi. Infatti si fa guerra o per difendersi o per offendere. E siccome dall'indagine del Machiavelli risulta che le artiglierie sono più utili a chi attacca che a chi si difende, viene da concludere circa i Romani che, veggendo come fecero quasi tutte le loro guerre per offendere altrui, essi avrebbero avuto più vantaggio e più presto avrebbero fatto i loro acquisti, se ai loro tempi già fossero esistite le artiglierie. Piuttosto, riprendendo un appunto già sviluppato nel Principe, il Machiavelli accusa i capitani di Ventura di aver tolto, per loro comodo, importanza alla fanteria per trasferirla alla cavalleria nonostante che anche a suo tempo si fossero veduti novemila svizzeri a Novara andare ad affrontare diecimila cavalli e taltrettanti fanti e vincerli. Se non fosse per la decadenza dei tempi, quindi, si riconoscerebbe la necessità di resuscitare questi ordini, dar loro reputazione, dar loro vita. Come ci si persuaderebbe del danno e della rovina, già illustrate nel Principe, cui va incontro chi si serve di milizie ausiliarie e mercennarie. Anche le portezze, in cui tanto confidano i nuovi principi, sono per lo più inutili o dannose, a meno che non si vogliano impiegare a tenere a freno i sudditi in tempo di pace, col rischio di fomentarne l'odio, come accadde agli sforza che tanto contavano sul loro castello di Milano. Invece, diventati soprammodo odiosi, perderono quello stato come prima il nemico li assaltò, né quella fortezza li difese, né fece loro nella guerra utile alcuno. Terminato così l'esame delle direttive di politica estera e dell'organizzazione militare, che permisero a Roma di ampliare e rinsaldare il proprio dominio, il Machiavelli, prima di porre termine al secondo libro, sviluppa qualche più particolare osservazione sui fatti e principi pertinenti alla prudenza dell'agire, più che alla condotta militare. Cattivo partito, ad esempio, anche se molto osservato ai tempi, è di approfittare delle discordie intestine di una repubblica per muoverle guerra. Infatti, si ottiene spesso l'effetto di provocare in essa una subita concordia. Perché la cagione della disunione delle repubbliche il più delle volte è l'ozio e la pace, la cagione della unione è la paura e la guerra. Inoltre, è segno di grande prudenzia astenersi o dal minacciare o dallo ingiuriare alcuno con le parole. Perché l'una cosa lo fa più cauto, l'altra gli fa avere maggior odio contro di te e pensare con maggior industria di offenderti. Così pure in guerra, se si vuole persuadere il nemico a trattare la pace, bisogna evitare di usare contro di lui parole poco onorevoli, nate il più delle volte da un'insolenza che ti dà la vittoria o una falsa speranza di vittoria. Ne può mancare, in un testo del Machiavelli, una riflessione sui modi e il peso della fortuna nello sviluppo dei fatti storici. Anzi, nel ventinovesimo capitolo di questa seconda parte dei discorsi, essa assume per la prima volta in lui un chiaro carattere providenziale che riconduce a un fine del tutto impensabile e insospettato il corso apparentemente incidentale degli eventi. Egli ricava questa persuasione dall'esame della vicenda dell'invasione dei Galli, conclusasi col ritorno e la vittoria dell'esiliato Camillo. Secondo quel che dice Livio, il comportamento dei Romani in quella occasione, sbadato e inconcludente fuori dell'ordinario, fu tale da far dire che la fortuna acceca gli animi degli uomini quando non vuole che quelli si oppongano ai suoi disegni. Che poi, nel caso, erano che Roma fosse rinnovata nei suoi ordinamenti da Camillo. Infatti essa elegge un uomo quando ella voglia condurre cose grandi, di tanto spirito e di tanta virtù, che conosca quelle occasioni che ella gli porge. Pertanto si vede che ella fece esulare e non morire Camillo, fece pigliare Roma e non il Campidoglio, ordinò che i Romani per riparare Roma non pensassero alcuna cosa buona. Per difendere il Campidoglio non mancarono d'alcun buono ordine. L'opera dell'uomo, per elezione providenziale, sembra saldare e risolvere gli addentellati incidentali del caso. Perciò si può concludere che gli uomini possono secondare la fortuna e non opporsele, possono testere gli ordini suoi e non romperli. Non conoscendosi d'altra parte gli scopi reconditi di quella, essi debbono pur sempre sperare nel futuro e, sperando, non si abbandonare in qualunque fortuna ed in qualunque travaglio si trovino. È in questa saldezza d'animo e di propositi che la virtù ritrova il proprio posto. Il terzo libro, che ha per oggetto lo studio dei mezzi ordinari o ordinari, coscienti o accidentali, intrinseci o destrinseci, con cui ci si può opporre alla inevitabile decadenza degli stati nonostante la suggestività del suo tema, è senza dubbio più diluito e fiacco dei precedenti. Un recente studioso del Machiavelli, Gennaro Sasso, sostiene in proposito che caduta a metà della prima parte la speranza che l'esame degli ordinamenti romani servisse a rinvigorire gli stati d'Italia a lui contemporanea, svanito nel tempo l'ardore polemico che lo aveva spinto a mettere sotto accusa nel secondo libro, quale colpevole della nostra rovina, l'infingardia politica e militare dei principi italiani, mancava ormai lo stimolo a un'opera di effettiva ricostruzione teorica dei grandi dati del suo programma politico, pur nella forma apparentemente disorganica e un po' dispersa di analisi che la natura dei discorsi comporta. Il che è senz'altro fondato, psicologicamente parlando, ma ci si potrebbe anche chiedere se il tema, inteso anche se non strettamente formulato nei suoi termini formali dal Machiavelli, era tale che egli, sulla base delle qualità del suo ingegno speculativo e conseguentemente dei modi della sua dialettica, lo potesse in maniera adeguata proporre a se stesso e svolgere. Ora, il suo naturalismo, sia pure immediato e non sistematico, gli imponeva di ritenere formalmente mortale ogni cosa umana. D'altra parte, la sua esperienza della mutevole e complessa varietà degli eventi politici per una intima carenza del processo critico della sua coscienza non era confluita in un'elaborazione dottrinale tanto calzante e piena da liberarlo del tutto dalla necessità di poggiare le sue argomentazioni su suggerimenti mitici a critici che la sua immagine ideale della storia romana gli forniva. Tanto è vero che la sua legge di interpretazione logica e pratica della storia è la imitazione. La costituzione fisica del nascere e del morire degli uomini e dell'istituzione gli rendeva quindi arduo di rintrecciare le possibilità contingenti e perenni di trasformazione e di mutamento che danno vita alla storia. Non vi giunse del resto neppure il Guicciardini, tanto più avveduto nel raccomandare alla propria d'altrui intelligenza, la discrezione nel giudicare, ossia il massimo discernimento. Il Machiavelli poteva tutt'al più intuire, come fece, che se non vè continuità senza mutamento e corruzione non sono da escludersi neanche mutamenti dello Stato presente, che sono un ritorno degli ordinamenti politici allo spirito e alle funzioni per cui furono creati. Queste alterazioni, nelle repubbliche meglio ordinate, sono la salvezza, perché esse si possono in tal modo rinnovare e questo nasce o da una legge la quale spesso rivegga il conto agli uomini che sono in quel corpo o veramente da un uomo buono che nasca in fra loro, il quale con i suoi esempi e con le sue opere virtuose faccia il medesimo effetto che l'ordine. Gli ordini che ritirarono la Repubblica Romana verso il suo principio furono i tribuni della plebe, i censori e tutte le altre leggi che venivano fatte contro all'ambizione e all'insolenza degli uomini. Tra gli stati moderni ve il regno di Francia, che vive sotto le leggi e gli ordini più che alcun altro regno, delle quali leggi e ordini sono mantenitori i parlamenti e massime quel di Parigi. Infatti, essi avevano facoltà di cassare perfino i decreti regi, se li ritenevano incostituzionali, e in tal modo rinnovavano il vigore degli ordini antichi. Ma già nei successivi capitoli l'indagine perde contatto con il vero problema. Siamo spesso davanti a nuove esemplificazioni di idee già affermate, oppure a esami intelligenti e minuziosi, ma episodici, il più lungo dei quali riguarda le congiure. Difficilissime a realizzare, a meno che non siano rapide e limitate a pochi aderenti, o si risolvano in un gesto di vendetta verso il principe compiuto da uno che gli vive vicino. Disperso in mezzo agli altri è il ventiquattresimo capitolo, che ci dice come mai, nonostante gli ordini che ne permettevano la rinnovazione, la libertà di Roma sia stata del tutto alterata e corrotta a causa dell'illegittimo prolungamento delle magistrature, oltre i termini prescritti. In seguito a ciò, meno numero di uomini si esercitarono negli imperi, e si venne per questo a restringere la reputazione in pochi. Ed inoltre, stando un cittadino assai tempo comandatore di un esercito, se lo guadagnava e faceva se lo partigiano. Col passare del tempo i soldati, dimenticato il senato, riconoscevano quello solo per proprio capo, secondo gli esempi di Mario, Silla, Cesare. Vi sono pagine che svolgono spunti pittoreschi. Ecco quella che indaga la cagione perché i francesi sono stati e sono ancora giudicati nelle zuffe da principio più che uomini e di poi meno che femmine, che teorizza il cosiddetto furor gallico. Insomma, il nucleo del suo pensiero, il Machiavelli lo ha già ampiamente esposto ed è inutile ripetere argomenti e citazioni. La vera novità dell'ultimo libro pare si esaurisca nel corso stesso del capitolo che ne espone i termini.